Siamo alla collina degli Elfi. Cos'è la collina degli Elfi? È un posto magico in cui i bambini dopo un lungo tempo in ospedale possono venire a riposarsi con le loro famiglie. Cosa c'è in collina? I volontari che ci fanno divertire, tanti bambini, tanti animali da guardare con cui giocare. Qual è il tuo animale preferito? La gatta, la gatta, il pioggia, il cavallo, i pulcini, le galline, Charlie la pecora, il soli l'asino, il dardo il cavallo. Cosa si fa con gli animali? Li diamo da mangiare, li diamo da bere, li puliamo, li cavalchiamo. Giochiamo. Ci piace giocare, ci prendiamo cura di loro e ci piace anche molto pulirli. E cosa facciamo alla collina degli Elfi? Ci divertiamo! Il tipo di relazione che lega il bambino all'animale è semplicemente fatta di amore. Un amore che si estrinseca nel gioco, nella complicità, nella condivisione di specifiche esperienze, nelle carezze e nella reciproca presenza. Così come tra fratelli minori e maggiori, con i primi che cercano nei secondi conforto e protezione ai propri bisogni e trovano negli sguardi reciproci un amore corrisposto. Semplicemente questa è l'essenza del nostro progetto. Grazie a voi potremo migliorare lo spazio dove vengono accolti gli animali che ci aiutano nelle attività, con i bambini malati di cancro e i loro genitori. Noi ci prendiamo cura degli animali. Loro si prendono cura dei nostri bambini. Sii presente nelle loro vite. Sostiedici! Ci ha il regalo sorrisi!